Beba, aiuta! Mi guarda tantissima, però l'ho stata parte Mamma mia, sono rossa qua, ma pure qua, ma pure qua Eh? Pure in fronte? Papà! Ilari, ecco qua Oh mamma mia, Ilari! Il termometro! Ilari, Nicole, veloce, come ti chiami? Dammi il termometro, veloce Allora ragazzi, a Ilari non è passata Quindi ragazzi, saliamo in macchina e andiamo a pronto soccorso Ciao a tutti, unghetti, unghettine Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Eeeh, cosa io volevo dire? Oggi ragazzi, guardate con chi sto con la zia Peggiore o migliore? Scrivetelo nei commenti Nicola Sono la migliore Ragazzi, oggi sono a casa con Nicole Ho deciso di fare questa sfida Guardate che sto prendendo Cipolla E' peperoncino E' peperoncino E' peperoncino E' peperoncino E' peperoncino E' peperoncino Ma porca miseria, che cos'è il tuo casino? Ma possibile non potresti stare a... E' peperoncino E' peperoncino E' peperoncino Ma che me ne frega a me se era peperoncino e cipolla Mi dai una spiegazione di tutto questo casino qua sopra Ilari, perché hai messo questo cipolla? Sopra Pugetti da casa Voi volete la sfida con i cipi? Iscrivetevi al canale se volete vederla Allora abbiamo qui sopra del salmone Del peperoncino Della maionese Succhi di brutta Fagioli piccanti Rosmarino Limone E questo che cos'è? Altro peperoncino Un formaggino E' peperoncino Va bene basta Un formaggino e un pezzo di ciambellone La sfida sarà questa Faremo un giro di carta fotrice a pietra Chi perderà? Anzi Chi vincerà? Preparerà la ricetta Carta fotrice a pietra Tata Ha vinto Ilari Adesso quindi Ilari dovrà scegliere Tre ingredienti ad occhi chiusi Io mischierò gli oggetti però Ok Ilari puoi prendere gli ingredienti Primo ingrediente Oh mio dio Cosa sceglierà Ilari da far mangiare il mio col No questo non fa bello Sto ti metto in un po' No metto Grazie Biberoncino No Allora NICOLE devi andare all'assaggio NICOLE NICOLE mangia no 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 che è successo che è successo NICOLE è tutto bene no Fizzica ha vinto Nicola Ilari chiudi gli occhi ok Ilari puoi aprire com'è che schifo stai facendo Ilari non vuoi più fare questo gioco hai scelto tu di farlo questo gioco allora mettiamoci a fare i compiti allora Ilari avete giocato avete fatto adesso per favore iniziamo a fare i compiti perché iniziamo a dimirsi per la scuola per favore va bene ok che hai fatto vabbè puoi iniziare a fare i compiti per favore ok papà mamma è venuto un po' e qua pure qua ok è un po' rosso qua ma perché ti sei grattata forse si ah va bene dai vedrai che ora passa vabbè vai in cameretta tua a fare i compiti per favore ok la in quantità per favore stavate illa sta facendo i compiti mamma io sono rossa qua, ma pure qua, ma pure qua, ma pure qua ma non mi dire pure in fronte papà papà che c'è Ilari, perché mi stai chiamando? Nicole vai a dare una mano a Ilari a fare i compiti che si sta inventando l'escuso che c'entro io? c'entri, c'entri, perché avete giocato avete giocato e state facendo casino, vai Ilari, che c'è Nicola? che ho fatto? c'è, sono tutta rossa, viola ah, buono, bene, l'avevo detto mi è bruciata da tutte le parti sia qua, sia qua, sia qua Stefano! io ragazzi non ce la faccio più veramente credetemi, questa è l'ultima volta che vi faccio stare qua a casa insieme non voglio nemmeno più fare video oh, santo cielo Ilari! che cavolo è? Ilari, fammi vedere le braccia oh, santo cielo Ilari, sei totalmente tutta rossa, chiazzata ma è trucco Ilari? no Ilari, oh mamma mia ma non è trucco, non si toglie Nicole, Nicole, vai a prendere il telefono veloce, prendi il telefono chiamo il dottore veloce, vai a prendere veloce, veloce, veloce mi sento male cosa che ti senti? dimmi che ti senti Ilari mi sento tipo mal di gola mal di gola? mal di ossa no, 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 aspetta un attimo Nicole, vai sulla rubrica vai sulla rubrica veloce scrivi dottore Ilari Ilari ma tu scotti Nicole, Nicole mi vai a prendere il termometro fammi a prendere il termometro forse ho un'allergia aspetta, fammi dimensurare la febbre, ok? stai ferma qui stai ferma qui il termometro Ilari, Nicole, veloce come ti chiami? dammi il termometro veloce dai il termometro a Ilari forza metti il termometro Ilari, metti il termometro mi sento malissimo mi sento malissimo traglietti traglietti rilassati, ok? ok sì, Ilari, veramente sono preoccupato quanto hai di febbre? 392 392? 392 392 di febbre chiamiamo il dottore subito pronto? dottoressa? vabbè, sono il papà di Ilari ascolti, ascolti Ilari ha una febbre improvvisa e suda molto e ha delle chiazze delle chiazze addosso delle chiazze sulle braccia ha una chiazza grossissima sulla fronte e sulle guance dalla schia no no ce l'hanno no 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 ma è possibile che immorbillo la varicella? no, non so una bolla cosa ha mangiato? eh, ha mangiato eh, cosa ha mangiato? eh mi sta venendo in mente una cosa a me ho un dubbio ho un dubbio io ho un dubbio dottoressa cosa? non c'enti niente? tu c'entri? c'entri se era stata quella schifezza che mi siete mangiati? no, hanno mangiato qualcosina tipo eh, hanno mangiato che cosa avete mangiato? che c'è l'ultimo? no, c'erano fagioli allora c'erano dei fagioli peperuccino eh cipolla poi c'era maionese salmone salmone? ok, ok ho capito salmone avevo letto che era scaduto ok, la ringrazio dottoressa allora la portiamo all'ospedale va benissimo grazie grazie mille allora ragazzi probabilmente è una reazione allergica al cibo quindi io direi forse di fermare la registrazione qui perché non so quanto veramente sia buono continuare Nicola ascoltami nel mobile delle medicine guarda un attimo cerchiamo insieme dovrebbero stare un antistaminico o una pasticca o una cosa insomma che serve per l'energia sbrigati sbrigati veloce però non c'è tempo da perdere Nicola veloce allora ragazzi prendiamo una di queste ha detto la dottoressa che una di queste per il momento va bene poi di andare se non passa di andare subito all'ospedale Ilari ecco qua oh mamma mia Ilari Ilari sei totalmente piena di chiazze ovunque in faccia ce n'è sempre di più fa vedere le braccia allora ascoltami questa qua vuoi vedere la pancia no vuoi vedere anche sulla pancia oh mamma mia Ilari sei piena ovunque ascoltami prendi questa pasticchetta piccolissima con l'acqua e speriamo che ti passa almeno adesso se no dobbiamo andare di corsa all'ospedale ok 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 Ilari hai mandato giù ok bravissimi Ilari Ilari perché piangi perché non vuoi questa allergia Ilari no amore non devi piangere adesso con questa pasticchetta speriamo che passa subito adesso sdraiati aspettiamo che fa effetto la medicina se non fa effetto andiamo all'ospedale ok adesso sdraiati Nicola lo sai perché queste cose succedono lo sai perché queste cose succedono ragazzi scriveteci nei commenti se voi avete mai avuto un'allergia se siete andati dal dottore se avete qualche allergia io non lo so se questo video verrà pubblicato ragazzi perché è un po' un po' così non lo so Ilari non sta molto bene però magari magari vi aiutiamo proprio a capire che non bisogna fare certe cose allora ragazzi a Ilari non è passata purtroppo non sta molto bene è quasi buio fa molto freddo però vogliamo comunque tenervi aggiornati se vi fa piacere quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate anche un bel like iscrivetevi al canale iscriveteci tantissimi se anche a voi è capitato quindi ragazzi saliamo in macchina andiamo a pronto soccorso Ilari come stai? eh? ok dai tanto adesso c'è anche zia Nicola che ci accompagna va bene? allora ragazzi siamo nell'androne dell'ospedale o purtroppo non potevamo riprendere comunque è l'entrata tutto bene il dottore la sta visitando è un'allergia ora bisogna solo fare dei test delle analisi per capire a cosa è dovuta questa allergia probabilmente qui c'è lo zampino di qualcuno però vabbè è stata anche colpa mia che li ho fatto fare quel gioco comunque vabbè da una parte è meglio così o meno scopriamo a che cosa è allergica fateci sapere nei cominci se anche voi siete allergici a qualcosa se vi è mai capitato se avete preso dei medicinali quindi iscrivetevi al canale per non perdervi le nostre prossime avventure quindi funghetti ci vediamo domani con un altro nuovissimo video a domani ciao ciao ragazzi siamo stanchissime notte ciao 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 ciao